Appuntamento nazionale per la Karate Judoclub di Sciacca. La società del maestro Pippo Piazza sarà presente a Roma, presso il centro olimpico Pala Pellicone, per il campionato italiano di Catà per la categoria Cadetti. La gara è in programma venerdì 20 ottobre, sempre sotto legida della federazione ufficiale Filcam. A difendere i colori del club saccense ci sarà l'atleta Francesco Restivo, unico atleta della provincia di Grigento, a partecipare in questa specialità, che aveva staccato il pass dopo aver superato le fasi regionali del circuito. Francesco Restivo sarà accompagnato allo schialido dal maestro di Karate Michele Catanzaro. E passiamo al tennis. Antonino Armenio, maestro del club Passione Tennis Sciacca, protagonista ai campionati assoluti provinciali che si sono tenuti presso l'Agon Club di Aragona, un circuito che si svolge in tutte le province siciliane, prima di darsi appuntamento al Seven Club di Siracusa per la cosiddetta Coppa delle Province. Ad avere la meglio in provincia di Grigento, nel più importante circuito open, sono stati appunto Antonino Armenio e Fabio Pitrone, ormai compagni di gioco da circa un anno e con già quattro tornei vinti consecutivamente alle spalle. Diverse le categorie che si sono sfidate in campo. In quarta categoria è giunta in finale la coppia esecenze formata da Enrico Emmi e Antonino Bilello del Pirrera Padel Sciacca, sconfitta però dalla coppia composta da Marco Calia e da Calogero Camilleri della Pinettina di Grigento. In terza categoria hanno vinto Federico Sutterasardo e Leonardo Urso del circolo Atena Padel di Grigento, mentre nel misto, invece, si è imposta la coppia del Pineta Padel Marco Calia e Selvaggia Bellavia. Tra gli open, Armenio e Pitrone, tesserati con il Golden Caltanissetta, hanno battuto ai quarti la coppia Platania e Craparo, in semifinale la coppia Bosco Fiore e in finale la forte coppia Alfonso Bellavia e Ignazio Fiore di Grigento. Per Pitrone e Armenio questo è il terzo torneo open consecutivo, ma questo è sicuramente il più importante perché li colloca come migliore coppie della provincia. Il maestro Antonino Armenio si allena, come risaputo, al Pirrera Padel di Sciacca, circolo con a capo Emmi, Bilello e Russo. Armenio, che infine ringrazia anche il giudice arbitro Antonio Palumbo e gli organizzatori del torneo, tra cui Stefano Di Paola, in rappresentanza della Federazione Italiana Tennis e Padel.